A inizi novecento, un imprenditore americano ha un'intuizione. L'automobile deve essere un prodotto per tutti, a basso costo, disponibile e riparabile ovunque. Gli altri imprenditori non scommettono su di lui, ha già due fallimenti alle spalle. In più, la produzione delle auto ha tempi troppo lunghi e costi troppo alti. Tu al suo posto cosa avresti fatto? Ti saresti arreso abbandonando il sogno di una vita? Oppure avresti osato il tutto per tutto? Quell'uomo era Henry Ford e quel giorno ha deciso di osare. La sua scelta si è basata su informazioni precise sul mercato, esperienza di 30 anni nel settore, ma anche passione e desiderio di successo. La passione di Ford per la meccanica si trasforma in un'invenzione rivoluzionaria. La catena di montaggio. Il nuovo sistema ottimizza il lavoro degli operai, riduce i tempi e abbatte i costi di produzione. Il risultato? La Ford Motor Company vende 16 milioni di auto modello T e la rivoluzione fordista cambia per sempre la vita di milioni di persone. E' così che la decisione di Ford trasforma un'intuizione in realtà. Ma che peso ha l'emozione nel processo decisionale? La vera svolta nasce sempre da una scelta personale, che si basa su una parte di razionalità e una parte di emozione. Non esistono scelte giuste o sbagliate a priori. Paura e insicurezza spesso influenzano in modo negativo la capacità di decisione. Passione e desiderio di successo, invece, rappresentano le molle per arrivare a una svolta positiva. Ricorda, questo modello non si applica solo alle grandi scelte che capitano una volta nella vita, ma è valido anche per quelle piccole decisioni quotidiane che possono fare la differenza. Grazie a tutti!